Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due Sul Server 2 con Metal Gear Solid 5. Lo sto giocando da PlayStation 4 Pro, io ce l'avevo per PC e per un po' ho portato anche dei gameplay, finché dopo una missione perfetta, dove veramente l'anima dello stealth era quella missione, si è buggato il gioco e mi ha crashato. Mi è cascato così tanto sui coglioni che non l'ho ripreso più per tantissimo tempo. Poi mi giocavo qualche missioncina ogni tanto quando avevo voglia, ma sostanzialmente non ho più riportato il gameplay. Ho approfittato degli scontri, di scontri, sconti natalizi per prendermi sia questo che Dark Souls 3 per PlayStation, e quindi l'ho ricominciato e adesso vi porto qualche bella missioncina, tanto per farvi vedere l'imperatore dello stealth, come si... Allora, abbiamo una missione, dobbiamo recuperare un soldato altamente qualificato, e ci lasciamo sganciare dall'elicottero un po' fuori dalla città, perché l'altra opzione ci avrebbe sganciato sulla città, o comunque sull'avamposto, sull'obiettivo, non so dove ci sganceranno, però mi piace sempre arrivare sul posto studiandomi anche un po' di dintorni, perché magari c'è qualche cazzo di ronda a bordo di una jeep che si fa tutto il giro, insomma, mi piace controllare per bene, perché come sapete, quando faccio le cose stealth, io le faccio per benone. Ora, non deve essere una missione troppo difficile, visto e considerato che qui si capisce la difficoltà della missione dalla ricompensa. La ricompensa sono 30.000 GMP, laddove con 50.000 GMP bestemmi la madonna con una dotazione come la mia, che è una dotazione, diciamo, bassa, questa dovrebbe essere medio-bassa come difficoltà, quindi potrei non fare una figura di merda, ma in caso io faccia una figura di merda, buon divertimento. Eccoci qua. Fortunatamente è notte. Io di solito mi faccio sganciare sul luogo verso le 6 di sera, così poi è buio e non mi vede nessuno, sono totalmente stealth. Ma in questo caso ci hanno sganciato di notte. Bene, ci è andata la grande. Dove ci sganci? Sull'autostrada, dobbiamo... Ci farei fare la donna di malaffare, proprio. Oh! Io non pensavo di essere così. Vedi quello che dicevo? Oh, magari sto camion si mette a fare tutto il giro e a me fa piacere averlo, capito? Nel radar, cioè so che quello si muove. Ora, la nostra missione. Soldato altamente qualificato è da queste parti. Mettiamoci un marker, in questo caso il marker D. D, c'ho tanti marker in giro che non servono a una sega, togliamo questo che è completamente inutile. Ok. Il D. Dobbiamo considerare il marker D. Cuse, cavalla, prendo un po' di sta... Ecco, di sterbetta fresca. Mi sono cagato addosso ma credo fosse una pecora. Salterina. Ah, lì ci lasciamo alle spalle. Quell'avamposto. Seguiamo placidamente quel camion. Senza farci individuare. Credo che quel camion entrerà nel... Nel villaggio che stiamo... Sì. Sì. Ok. Ma me lo aspettavo, me lo aspettavo perché c'è sempre un veicolo che fa avanti e indietro e se tu riesci a bloccartelo nel binocolo, sai perfettamente quando torna indietro, sai quando se ne va e non ti fai cogliere impreparato. Ah, mannaggia la zoccola. Eh, io pensavo fosse un villaggetto etto etto, invece qua è una situazione un po' più rompipalle. Va bene, va bene. Non mi pare una missione da 30.000 GMP, mi sembra una missione un attimino più importante, però vi divertirete di più a vedermi fallire nel caso, ok? Allora, noi cerchiamo il soldato altamente qualificato, il che significa che c'è una persona che ci interessa. Quindi, uno, non possiamo sparare a cazzo di cane, dobbiamo sempre stare attenti, altrimenti facciamo fuori il nostro obiettivo. E due, ce l'abbiamo un fucile decente, silenziato? Sì, hai voglia. Dicevo, e due, dobbiamo stare attenti a non ammazzare tutti, perché dobbiamo interrogarli, qualcuno potrebbe sapere dov'è il nostro soldato altamente qualificato. Se avessimo culo potrebbe essere pure il tizio qua sopra. In questo caso, spero che il nostro soldato altamente qualificato abbia una buona costituzione fisica. Eh, lo so, tu sei svenuto perché hai fatto un voletto, però... Adesso, mia cara, bella addormentata, ti acchiappo, e mi racconti le cose. No, non mi servono i progetti, dai. Dove sono gli altri? Non ho niente da dirti. Tu sei veramente inutile, ma veramente inutile. Guarda, ti mando alla Mother Base, ma proprio per pelare le patate, perché sei una merda. Ah no, però mi ha detto dove stanno altri due imbecilli. Non mi fido molto. Scusate una roba. Qui è pieno di gente. Però, la mia area dovrebbe essere questa. È qui che dovrebbe esserci il soldato altamente qualificato, non qui. Perché sono venuto fin qua? Che cazzo era? Ah! La torretta di quell'imbecille, mi sono caccato sotto. Allora, forse è davvero una missione da 30.000, perché entrare là dentro per 30.000 GMP mi sembra davvero una follia. Avevo sbagliato io la zona. Forse la zona era quell'avampostino che abbiamo visto in mezzo alla strada, che abbiamo tanto allegramente evitato. Potrebbe essere, se così fosse, questa missione potrebbe essere una vera e propria pacchia. Ci potremmo divertire molto a prendere per il culo i soldati. Vorrei dire che potremmo divertirci a fare una strage, ma non possiamo, per i motivi che vi ho detto prima, non possiamo rischiare di eliminare il nostro bersaglio. Qui c'è il nostro soldato altamente qualificato? Cioè, tipo... Qui? Qualcosa non mi torna. Soldato altamente qualificato dovrebbe trovarsi in cima a questa montagnola? È un cecchino. È un cecchino. Non ci sono altre spiegazioni. Ho già fatto una missione dove ho dovuto ritrovare un ex membro dei Diamond Dogs... Dicevo, un ex membro dei Diamond Dogs è trasformato. in maniera fastidiosissima magari è una missione del genere solo che non è trasformato credo che ci potrebbe venire molto in aiuto il nostro visore termico se qua intorno c'è una traccia di vita ahah tre uomini diamo un'occhiata con il nostro altamente qualificato perché ha soltanto qualche punto in più in ricerca e sviluppo vabbè ammettiamo che quel tizio sia altamente qualificato cosa che a me non pare proprio ah no è quello perché tu sei altamente qualificato per ricerca e sviluppo, veramente? altamente è un po' meno cesso degli altri non è che sia sto genio della meccanica vai altamente qualificato trova l'intruso pirla oh a te ti recupero così vabbè ma recupero pure voi perché tanto cioè se quello è altamente qualificato voi siete mediamente qualificati quanto è durato questo gameplay? vabbè ci ho messo 10 minuti dai ne facciamo un'altra di missioncina su perché è stato facile stavano qui come pirla allora facciamo così missioni missioni opzionali ottieni progetto per il braccio stordente ottieni progetto facciamoci questa un'altra da 30.000 ok il nostro punto di riferimento è quello la I di Imola c'è da farci due chilometri mo ce li facciamo scusate ragazzi non ho resistito era una cosa che volevo fare è bellissima la morte da caduta sul cavallo fa schiattare è bellissima mi sono caccato sotto pensavo fossero i fari di un'auto dove sei cavallo? ecco entra sempre in modo che ti fa cacca sotto cioè l'hanno proprio sviluppato così il cavallo ti deve fa cacca sotto se no non è non è lui credo che il modus operandi sia più o meno lo stesso che per trovare un essere umano un prigioniero cioè interrogare le guardie fargli sputare l'anima a forza di cazzottoni e sputi sì contatto tua sorella tanto mille mille metri ok ok Il problema è che sta albeggiando nel frattempo Quel cazzo di furgone che mi sta attaccato da prima Vediamo un po' questo posticino allegro dove potrebbero avere i progetti che ci interessano Ah ma questo villaggetto lo conosco Ma lo conosco Ci ho fatto un paio di missioni già qui Almeno una ce l'ho fatta No no due Due Anche se in una missione era solo di passaggio questo posto Ok Alba imminente Allora queste sono le zone Ottieni il progetto Riot Qui non c'è nulla Sembra che intorno al villaggio non ci siano soldati Potrebbero essere giustamente tutti intorno alla zona calda Quindi da qui in poi Va bene Va bene Va bene Ok Quello si può togliere di mezzo facilmente Molto facilmente Esatto Esatto Così Ora accertiamoci che non ci siano altri Rompipalle qui in giro No no la sorveglianza è molto bassa Devo far ricorso a tutta la mia ignoranza Per farmi beccare su questa mappa Ci vuole proprio l'ignoranza Quella forte Quella intensa Ok Quelli ancora stanno comunicando Che mi hanno trovato E mi hanno agganciato A te adesso ti faccio parlare un attimo Ok Bene Mi ha detto dove si trova un progetto Quindi con te abbiamo finito Sti veicoli maledetti Io perciò Perdo tempo a A segnarmeli i veicoli Perché quelli rompono i coglioni Progetto Allora lì a 125 metri C'è qualcosa che il soldato ha detto Essere un progetto Ora Se non c'è più di un progetto In questo villaggio Secondo me Stiamo andando bene Ok Silenzio Potremmo prenderlo alle spalle Senza fare neanche rumore Ok Non mi interessa interrogarlo Tanto Allora Dove è il nostro indicatore La J La J La J La J Sono arrivato Vero Qui Questo casolare Progetti 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 Qui ci sono materiali Non vedo Questi Oh yes Preso credo Quindi Mi devo soltanto allontanare Vero Sono così indefinite Le missioni Su Metal Gear Solid 5 Tutto così Boh L'ho fatta Non lo so Vediamo Missioni Lista missioni Missioni opzionali Sì L'ho fatta E mi sono beccato 30.000 GMP E anche un nuovo progetto Per un'arma Sì Sub Machine Gun